alfa romeo simbolo di made in italy e di sportività oggi vi parlo di questa alfa mito con motore 1.3 multijet 95 cavalli la prima cosa che balza all'occhio di quest'auto è proprio il colore questo rosso famoso rosso alfa che non permette sicuramente di passare inosservati questa mattina abbiamo conosciuto il primo proprietario che l'ha acquistata a gennaio del 2019 auto che è del 2016 ma è rimasta per tre anni ferma quindi è un'auto chilometri zero si del 2016 ma ha iniziato a percorrere i suoi primi chilometri a inizio del 2019 attualmente ne ha percorsi 48 mila grintosa e sportiva non solo nelle linee ma anche nella motorizzazione adesso la testeremo in accelerazione vedremo tutti e 95 cavalli in modalità dynamic beh davvero buona e corposa l'accelerazione anche la frenata ottima tutto corredato poi da una serie di accessori che rendono questa auto davvero un bel gioiellino a parte i cerchi lega ma anche il sistema touchscreen da 5 pollici con sistema multimediale con presa usb e passiamo adesso ad ascoltare l'accensione e anche gli scarichi per quest'auto è quasi tutto se volete conoscere altri aspetti lato tra tutto il prezzo vi ricordo che è interamente finanziabile ed è impronta al consiglio contattateci nei numeri che seguono visitate l'annuncio su privacar.com nella sede in san cesario ci vediamo alla prossima